Più che abbia subito traumi, svolga lavori pesanti o pratichi sport, può sviluppare una lesione alla cuffia dei rotatori della spalla. Inizialmente si presenta come un fastidio, ma nel tempo si può trasformare in una limitazione funzionale che impedisce azioni quotidiane come il semplice mettinarsi o stoccarsi la testa. Tuttavia oggi esiste una soluzione innovativa. Il dottor Marco Capuzzo, specialista in ortopedia e traumatologia presso i poliambulatori sanguetano, esegue uno tra i poli, il transfer del gran dorsale, un intervento indicato per persone giovane o attive con lesioni irreparabili ai tendini della cuffia. Il gran dorsale è il muscolo più ampio presente nel corpo umano che si suddivide in quattro parti, vertebrale, iliaca, costale e scapolare. Grazie alla sua posizione tra i muscoli della schiena svolge importanti funzioni sia a livello dell'omero, sia a livello del cronco che a livello della stabola, spiega il dottor Capuzzo. Permette dunque il corretto movimento del braccio e della spalla, inferiormente e costrettamente. La diagnosi della presenza di una lesione richiede rettografia e risonanza magnetica ad alto campo. È molto importante scliudere la presenza di un livello grave di artrosi. In caso di artrosi avanzate è necessaria una protesi specifica del vetco. È infine importante considerare anche l'età del paziente, idealmente tra i 50 e i 70 anni e il suo livello di attività fisica. Il transfer del gran dorsale è un intervento della durata di 50-60 minuti che viene eseguito in anestesia generale con blocco del dolore. Si inizia tramite artroscopia seguita dall'incisione chirurgica necessaria per il prelievo del tendine del gran dorsale, che poi viene fissato all'interno della spalla con delle apposite ancore chirurgiche. Il recupero post-operatorio e spoggettivo varia da 2 a 6 mesi. Molto dipende dalla condizione preoperatoria della spalla. Dopo due settimane di immobilizzazione con tutore, la riabilitazione diventa fondamentale. Nell'80-90% dei casi si raggiunge il pieno recupero. Trasso i poliambulatori stanghettando, l'intervento può essere effettuato tramite convenzioni assicurative come Unisalute e Metasalute o tramite pagamenti rateali e agevolati. Per informazioni e per prenotare una visita ortopedica è sufficiente contattare la segreteria al numero 0445 372 205.